Siamo con Marco Federzoni, Regional Sales Director di WebFleet Solutions per parlare di flotte aziendali, telematica ed elettrico. Volevo innanzitutto parlare di quelli che sono i servizi che WebFleet Solutions attraverso la piattaforma WebFleet offre all'elettrico, quelli già disponibili e se si può anticipare qualche servizio invece che ha lo studio magari prossimo a essere lanciato. Buongiorno, grazie per l'invito. WebFleet diciamo che è fra le prime piattaforme ad avere un servizio integrato sull'elettrico. Che cosa abbiamo già? Siamo partiti subito con quelle che ci sembrano i requisiti di base, quindi la carica della batteria rimanente, sempre online e visibile e i punti di ricarica, le due cose fondamentali. Abbiamo però un dato, crediamo, un valore aggiunto abbastanza importante perché calcoliamo la distanza, la distanza è facile calcolare, prendiamo un raggio e tiriamo il raggio. A differenza degli altri abbiamo usato un nostro algoritmo che calcola non la distanza to-cur, ma la distanza effettiva in base alla tipologia di strade e quindi come poi vedrete nel video che possiamo lanciare dentro l'intervista, dalla piattaforma si vedrà un'area che è molto frastagliata perché ovviamente in funzione della tipologia di strada si potrà percorrere più o meno strada, ma questa è proprio l'efficacia del sistema per cui ci dice veramente fin dove possiamo arrivare. Nel video facciamo vedere una distanza prima di 160, poi di 90 chilometri, ma si vede che in alcuni punti è come una stella, per cui in alcuni punti si va molto più distanti perché la strada ci permette di percorrere più chilometri grazie proprio alla tipologia di strada. Questi sono i tre servizi che sono già operativi, li vedete anche in piattaforma. Da buona giornalista lei mi chiede delle anticipazioni che io da buon sales director non posso darle, però quello che le posso dire è che lavoriamo costantemente sulla piattaforma, i nostri utenti lo sanno e abbiamo degli aggiornamenti ogni trimestre, quindi magari ci vedremo fra un trimestre, diciamo tre o quattro mesi. Quali dati avete a disposizione sulla diffusione dell'elettrico nelle flotte aziendali? La statistica è un po' difficile da raccogliere, le posso dire che avendo un contatto diretto con le grandi flotte, le corporation, l'interesse è molto elevato. L'attività c'è, diciamo che per la quantità dei veicoli rispetto alla flotta le percentuali sono ancora direi basse, però comprensibilmente bisogna anche fare tutta un'operazione prima, lanciarsi nell'elettrico senza aver fatto un po' di calcoli prima è difficile, per cui per rispondere questa volta alla sua domanda le direi qualche punto percentuale, ma solitamente nelle grandi flotte delle corporation siamo inferiori al 5% per quello che è la nostra esperienza, ma l'interesse è elevato e in crescita. Quali sono i principali ostacoli che si frappongono alla diffusione dell'elettrico nelle flotte aziendali e la pandemia in corso? Come inciderà su questo trend? Le principali problematiche che incontrano le aziende è quelle che le avevo accennato, bisogna fare un po' di calcoli prima di sapere che, insomma, difficilmente un'azienda dice passo all'elettrico e quando si dice no, non passo completamente all'elettrico, che cosa devo fare? Bisogna fare un'analisi. Una delle funzioni della nostra piattaforma è proprio quella di fare analisi. Alcuni analisti hanno usato proprio la nostra piattaforma per vedere come e quanto vengono utilizzati alcuni veicoli e in funzione di questo fare la scelta, una scelta oculata. Per quello che riguarda le dinamiche poi interne, l'altro ostacolo è quello delle distanze, delle ricariche. Un po' di pressione viene fatta dall'esterno, però anche le persone che la vogliono utilizzare hanno alcune problematiche sulla ricarica o comunque pensano di non avere il controllo totale. Questo credo che sia una delle problematiche riscontrate. Per quello che riguarda la pandemia direi che non vale solo per l'elettrico ed esclusivamente per l'elettrico. In generale le aziende stanno mettendo qualche freno agli investimenti a medio e lungo periodo perché sono un po' spaventate da questa cosa. Le grandi corporation comunque continuano, hanno fatto un progetto, il progetto continua. Ma direi che magari se c'era qualche speranza che le medie o piccole che fanno la differenza in Italia investano fortemente in questo campo, oggi come oggi con le incertezze che ci sono, ho i miei dubbi. Ecco, è qui che la pandemia forse incide particolarmente. Come vai elettrico? Ringraziamo Marco Federzoni, Regional Space Director di Web2Solutions. Grazie a voi per l'invito e a presto.